buongiorno bene allora questo è un flash si è un flash cara anna pirova no ho sbaglio lei la regina l'abbiamo messa sul trono come si dice dei 200 e dei 400 misti perché lei è l'ultima dei dei mohicani di questa spedizione mondiale junior mamma mia quanto è lunga no fare lunghissimo meno male che domani si parte si ma soprattutto la gara che fa lei perché due 400 mesi sono veramente il giro della della muerte come si dice tu preferisci 24 senti ma poi nel fatto misto uno preferisce sempre qualcosa no lo stile il dorso la lana proprio a lodi poi odiare insomma è una parola grossa ma certamente non non tieni il calice del flutto sul per intanto te lo guardi però ti guardi il mondo della nostra prospettiva appunto per quello che riesco a guardare sotto rana delfino a dorso no no senta più a me ha detto che lei è molto talentuosa ma cosa si aspetta da questi misti anche in un futuro che ne so io andare a dare la mondiale per la mia c'è la prima volta che faccio una diciamo un'esperienza così grande mondiale è un po emozionata si spero di migliorare di fare bene ma io direi di sì no a lei ha tutte quante le caratteristiche lei viene da l'ecco l'ecco diciamo anche il paese il paese il paese castello brianza è allenata da riccardo bianche si però mi allena a Monza che è dal panino da Monza dentro il circuito lì vicino indianapolis Monza è tutto un circuito senta ma prossimo futuro come la vede? le piace ostia sì bello il centro federale no? sì però sto bene anche a casa e anche un po di vacanza magari a proposito ma riuscirà a farla un po di vacanza? allora la scuola inizia l'undici il dodici di settembre scuola pure a scuola mi va a scuola che cosa fa? io faccio ragioneria costituto tecnico in finanze e marketing sempre vicino a casa e vado in quarta quindi e quindi e quindi insomma voglio dire speriamo che arrivi presto la vacanza ci rilassiamo però prima c'è indianapolis speriamo arrivano quelle e speriamo vadano bene e poi pensiamo alle valenze brava brava senta come dire mi raccomando alla prossima col flash acquatico magari in un futuro al salotto che ne so io speriamo ciao 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 ciao